Spitalari, proprio dall'amministrazione comunale di Udine in realtà può esserci un messaggio per dire sappiamo governare bene e presentiamo una squadra che sia in grado di dialogare di più con le persone? Questo è l'obiettivo in fondo, quello di riunire le competenze che il centro-sinistra, il Partito Democratico hanno espresso, hanno al loro interno, hanno nell'interlocuzione con la società con un più di capacità di ascolto, un più di capacità di relazione, un più di coinvolgimento anche delle persone, dei cittadini e in alcune materie anche dei professionisti che operano nella pubblica amministrazione, penso nel mondo della sanità, penso nel mondo degli enti locali. Quest'opera di ricucitura Sergio Bolzanello è in grado di farla in maniera egregia perché è uno che ha vissuto in questi anni la dimensione anche del sindaco, quindi della relazione di vicinanza, di prossimità ai cittadini. Competenza e ascolto saranno due chiavi e sono due chiavi per il successo, confidiamo, del centro-sinistra a livello regionale. Senta la candidatura di Bolzanello ma così anche come l'elezione di segretario ad interim, chiamiamolo così, delle PD arrivano in realtà dopo anni dove le segreterie sia provinciali che regionali, c'è il famoso detto Ciccio non sei per barca, però c'è onestamente tutte brave persone ma senza carisma, senza capacità di coinvolgere e trascinare le persone. Ma guardi, io, come dire, naturalmente... Questo lo dico dei suoi, eh. Ritengo, ritengo, ritengo che invece, come dire, l'esperienza che sia Antonella Grimm, sia i colleghi del provinciale hanno espresso in questi anni, è un'esperienza importante. Voglio precisare un elemento che forse è importante. È evidente che quando c'è un partito, una coalizione che governa, i segretari di partito rischiano di sparire rispetto alle dinamiche di chi governa. E quindi forse c'è stato questo, come dire, questa disattenzione a non far crescere in maniera armonica chi amministrava e chi, nell'ambito del partito, lavorava sui territori, sulle dinamiche di relazione con le persone. Questo forse è un elemento che dobbiamo mettere a punto, si dice, maggiormente. E confidiamo di farlo da subito, di averlo fatto in questi giorni, di farlo in queste prossime settimane. Possiamo dirlo, lei in questa settimana sembrava che fosse un consigliere regionale perché stava dalla mattina ad essere in consiglio regionale a controllare ad ascoltare tutti. Sembrava quasi, dimmi figliolo, cosa devi dirmi? No, beh, è evidente che in quell'opera di relazione, poi in pochi giorni con la scadenza elettorale si richiede evidentemente al segretario regionale un primo ascolto rispetto a chi in consiglio regionale siede, in chi ha responsabilità. Devo dire che in questi giorni abbiamo fatto anche diversi chilometri incontrando i quadri dei circoli, i responsabili provinciali, proprio in questa logica di connettere e costruire una squadra. È il concetto di squadra che forse è mancato al Partito Democratico negli anni trascorsi e che oggi può diventare l'elemento vincente o almeno l'elemento di svolta di una campagna elettorale. Io ho letto ieri il comunicato stampa sulla nosa vicenda di Ossal, ma onestamente non mi sembra un po' tutto esagerare. Cioè a me sono una grandissima cretinata, tutta sta cosa fatta da quattro imbecilli come al solito. Cioè non c'è il rischio di andare a toccare temi che in realtà probabilmente chi ha fatto, sta vivendo queste figurine, manco sa che cosa sia all'epoca fascista, anche perché non erano manco nati. Allora certo, come dire, non dobbiamo esasperare i toni né da una parte né dall'altra, però l'intento, l'auspicio è anche quello di lavorare invece con le giovani generazioni e aiutare anche a capire il valore di alcuni simboli. Quando si utilizza quella divisa a righe che ha portato morte, che ha distrutto un popolo, evidentemente bisogna avere contezza di quello che si fa. Io ho l'appello che faccio anche a queste persone che evito di qualificare è quello di avere la consapevolezza che non si scherza con il fuoco e che il rispetto per le persone è l'elemento base anche per una lotta politica vera, profonda, senza esclusione di colpi. Io sono uno che non ha paura del confronto anche aperto, anche aspro, ma il rispetto per le persone è un elemento essenziale per far crescere anche le nostre istituzioni.